Al di fuori dei percorsi obbligati dei culti Le religioni Paolo Franceschetti Il libro ha quindi la pretesa di far conoscere e amare le religioni diverse dalla propria o approfondire alcuni concetti inerenti alla propria fede di appartenenza, ma al tempo stesso fornire una sorta di panoramica spirituale per coloro che vogliono cimentarsi in un percorso personale al di fuori dei percorsi obbligati dei culti.